Sono state ore delicatissime quelle vissute nella serata di ieri per la vicenda che riguarda i lavoratori dell'indotto dell'industria di Piana del Signore a Gela. Questi fatti, già durante il vertice presso la prefettura di Caltanissetta, convocato dallo stesso prefetto Maria Teresa Cucinotta, erano state accolte e confermate le richieste al Governo nazionale sulla vertenza Gela, avanzate giorni addietro dal presidente della regione Rosario Crocetta, dal sindaco di Gela Domenico Messinese e dai sindacati. Al vertice erano presenti le parti coinvolte, rappresentanti degli assessorati regionali alle attività produttive e al lavoro, Confindustria, Lega Coop, CGL, Cisle, Will, rappresentanti della raffineria di Gela, Sindial ed una delegazione dei lavoratori dell'indotto. Per il comune di Gela erano presenti il primo cittadino Domenico Messinese e l'assessore Simone Siciliano. Nella stessa sede il prefetto aveva chiesto ai sindacati di promuovere uno stop immediato ai blocchi dei lavoratori, al fine di sbloccare le attività svolte nel sito produttivo dell'ENI, garantendo attraverso il regolare accesso dei lavoratori le necessarie condizioni di sicurezza, anche allo scopo di non ostacolare il percorso di attuazione del protocollo di intesa. Ed è a questo punto che i sindacati intraprendono una delicata mediazione con i lavoratori e ieri sera stesso, dopo una settimana di presidi lungo gli accessi stradali che conducono allo stabilimento industriale, i blocchi vengono rimossi. Giudice, ieri il prefetto chiedeva a tutte le sigle sindacali di trovare una mediazione con gli ex operai che stavano protestando e che di fatto bloccavano gli operai del diretto che dovevano dare il cambio turno ai colleghi che erano rimasti bloccati all'interno dello stabilimento. Questo poteva provocare una situazione di grave tensione che poteva anche degenerare, vista la stanchezza dei dipendenti all'interno dello stabilimento. Sì, era una situazione al limite derivante da una necessità umana di manifestare in modo civile che è quello che hanno fatto gli ex lavoratori di elettroclima, della nuova ex gamma, di asfalto e bitume e di tutte le aziende che purtroppo alcune ci sono, altre no, sono state dismesse, hanno perso l'occupazione. È un dramma senza fine. Siamo qui come sindacato, anche rappresentanza parlo di Cisleville, per dire che non ci sono toni trionfalistici dopo la riunione in brevettura. Vi è una apparente calma. I lavoratori non sono stati in una nottata ricollocati in qualche azienda gelese o meno. I lavoratori sono a casa, sempre licenziati, però ora hanno una speranza. Quello che la Regione, assieme al Ministero del Lavoro, si occupi delle loro vite lavorative, lavoratore per lavoratore. Voi avete accolto quindi le richieste del prefetto Maria Teresa Cucinotta. È stato semplice mediare con gli ex lavoratori, con chi rivendica il proprio diritto ad una vita dignitosa? Ma io devo essere sincero, come sempre, nulla è semplice nel sud Italia. Gela è una polveriera, lo era e rimane sotto il profilo occupazionale. Col prefetto abbiamo mediato perché sono state accolte alcune nostre rivendicazioni, il prefetto le ha fatte proprie e devo dire che è dimostrato che quando le istituzioni, penso anche al sindaco e al vice sindaco che erano presenti, hanno una sensibilità nell'accogliere le motivazioni dei lavoratori e noi abbiamo la sensibilità di accogliere le proposte delle istituzioni, in questo caso il Comune, tutto viene più semplice a tutti. Ora siamo legati a domani. Domani c'è questo incontro alle ore 13 a Palermo per vagliare la posizione di ogni lavoratore in merito alle cassa di trazioni e alla mobilità, ma è chiaro che noi siamo legati a un progetto industriale che se non dovesse partire o dovesse ancora registrare momenti di debolezze, noi rifaremo presidi e quant'altro perché così non va senza risposte concrete.